Il trattato è il genere per antonomasia che gli umanisti e gli uomini del rinascimento praticano e c'è una ragione molto semplice della fortuna di questo genere, perché la tendenza è quella di definire quelle che sono le norme di un codice che se vogliamo da un lato guarda alla realtà e dall'altro invece vuole definire quelle che possono essere le caratteristiche, le regole, le norme da seguire in differenti contesti. Questo sforzo di codificare evidentemente è tutt'uno con la certezza che si possa controllare la realtà e se ne possano definire alcuni aspetti che devono essere poi condivisi e accettati. Parliamo dunque di trattati che furono scritti per diversi ambiti, per esempio nell'ambito linguistico Pietro Bembo, autore delle prose della volgarlingua, 1525, si preoccupa di definire quali debbano essere i caratteri della scrittura letteraria ed ecco che proprio Bembo ha definire il canone del fiorentino, del toscano, del fiorentino non della lingua parlata ma della lingua letteraria. In altre parole, nelle prose della volgarlingua di Bembo si stabilisce che il modello per la lirica sia rappresentato da Petrarca e il modello invece per la prosa sia rappresentato da Boccaccio, dal Boccaccio delle parti più rifinite stilisticamente. C'è questo sforzo dunque di identificare dei modelli. La stessa cosa per esempio riguarda l'ambito politico, consideriamo anche il principe di Machiavelli che rientra nel genere o ancora consideriamo che il menù del giorno il cortegiano di Baldassar Castiglione, il cortegiano che ci rinvia già dal titolo inevitabilmente all'ambiente delle corti. Siamo nel rinascimento, nella seconda parte del rinascimento, rinascimento cortigiano in cui le intellettuali operano a corte e Baldassar Castiglione si preoccupa in quest'opera che uscì nel 1528 ma che in realtà è ambientata nel 1506, quindi c'è una retrodatazione e subito spiego perché. Insomma nel 1528 si preoccupò di definire in quattro libri quelli che dovevano essere le caratteristiche di chi frequenta la corte e la cosa notevole è che ormai la stampa è stata inventata e quello di cui parliamo è un libro che divenne un best seller, cioè un libro di forte fama, un libro che aveva un successo internazionale a livello europeo, un libro che tenne banco, che rimase diffuso almeno fino al XVII secolo, quindi un'opera che ha avuto un influsso enorme per quanto riguarda il codice di comportamento di chi frequenta la corte. La cosa interessante, la retrodatazione interessante perché retrodatando, lo stesso accorgimento lo adopera Cicerone nei suoi dialoghi, retrodatando è come se gettasse un'aura particolare sul contesto che lui ricostruisce, cioè c'è la famosa situazione del laudator temporis acti, di chi si trova ad essere un laudatore dei tempi passati. Una situazione analoga è messa in atto qui. Lo scrittore ci avverte che gran parte dei personaggi ormai sono morti, quindi è passato un periodo piuttosto lungo, quasi un ventennio, e quella che descrive è propriamente una corte ideale, un mondo ideale che però, come dicono le date, ormai è lontano nel tempo. L'obiettivo che Castiglione si preoccupa di perseguire è quello di definire un ideale astratto di perfezione però a partire dalla realtà data, dalla realtà di fatto. Infatti in quest'opera articolata in quattro libri ci troviamo in un luogo preciso alla corte di Guido da Montefeltro che fra l'altro non compare nel libro perché è malato e infatti morirà di lì a poco e alla corte di Guido da Montefeltro si ritrova, vive anzi, una comunità ideale, una comunità i cui protagonisti sono lo stesso Pietro Bembo, Giuliano dei Medici, altre personalità illustre che ribadisco ormai non ci sono più, ma l'opera dunque ricostruisce un periodo che viene visto come un periodo ideale. Questo mito della corte urbinate, la corte ritratta nel 1506, si dipana nel corso dei quattro libri e quattro libri come sono quattro le sere in cui una trentina di cortigiani insieme alla moglie di Guido da Montefeltro, Elisabetta Gonzaga, cercano che cosa? Cercano di definire il perfetto cortigiano. Prima di procedere ci occupiamo del protagonista che ritrae un mondo a cui lui stesso apparteneva in cui era di casa. Baldassar Castiglione è un aristocratico, quindi un uomo nobile, la madre è una Gonzaga che si trova a studiare a Milano, a frequentare la corte di Ludovico il Moro e poi a stabilirsi a far data dal 1504 alla corte di Urbino. A Urbino è in contatto con un ambiente in cui, come dire, i costumi sono raffinati, in cui fra l'altro la gentilezza dei modi è garantita anche dalla presenza attiva di due figure femminili che sono al centro della vita di corte. Una è la moglie di Guido da Montefeltro, Elisabetta Gonzaga, e l'altra è sua cognata che si chiama Emilia Pia. Il fatto è che alla corte di Urbino sono convenuti molti artisti e intellettuali di altissimo livello, come vi dicevo prima quando ho citato per esempio Pietro Bembo. Poi a un certo punto si sposta, entra al servizio del Duca di Mantua, fa delle ambascerie a Roma e siccome poi resta vedovo e ha tre figli a carico decide di prendere i voti. Altri eventi sono legati poi al suo rapporto con la corte di Roma e un altro evento ancora che come sempre siamo tenuti a ricordare è la data del 1527 in cui lo stesso Castiglione era stato mandato alla corte di Carlo V con l'incarico di scongiurare quello che poi avvenne nel 1527 il famoso sacco di Roma, i Lanzichenecchi che mettono a ferro e fuoco la città. E a quel punto la situazione di sua diventa difficoltosa e si ritira a Toledo, a sud di Madrid, dove morì nel 1529. Quindi una vita spesa a contatto con le corti, una vita anche in cui è stata una persona, una figura di prestigio e di riferimento. Nel primo libro del cortigiano sono affrontati dei temi di ordine generale. Risulta che il cortigiano deve essere un uomo d'armi e anche un uomo di lettere, deve saper usare bene il linguaggio e soprattutto deve improntare il suo comportamento alla grazia, che significa ad un atteggiamento disinvolto, deve essere sciolto nel suo comportamento anche se questa disinvoltura è il risultato di una precisa ricerca, di uno studio, ma un conto è predisporsi a, cioè capire come muoversi. Un conto poi è non far trapelare all'esterno che il nostro modo di comportarci sia in realtà frutto di studio, quindi esalta la naturalezza. Nel secondo libro invece ci sono due cose importanti che vengono ribadite. La prima è che il cortigiano, che sembrano anche in contraddizione ma non lo sono, la prima è che il cortigiano deve puntare sempre a primeggiare, va bene? Cioè deve essere colui che eccelle, ma d'altra parte è anche colui che deve sapersi comportare, quindi deve improntare il suo comportamento all'equilibrio. Deve, nella vita concreta, saper far conversazione, saper far ridere, parlare con il giusto tono, vestirsi senza eccessi e quindi ecco che l'idea che viene evidenziata è quella del giusto equilibrio, che sarebbe la mediocritas degli antichi. Il terzo libro invece, udite ragazze e ragazze, è dedicato alla donna di palazzo, cioè alla figura della dama di corte e qui è interessante perché Castiglione dà tutta una serie di indicazioni concrete sulle qualità, le abilità, le competenze, deve sapere di musica, di danza, di letteratura, un po' come era il caso di Elisabetta Gonzaga. E la cosa interessante, in questo terzo libro noi abbiamo modo di riflettere su come anche all'epoca ci fosse chi seguiva un atteggiamento di piena misoginia, cioè riteneva la donna, con parole di Euripide, una razza inferiore e chi invece pensava che la donna in fondo fosse libera anche di agire, dovesse essere spregiudicata. C'è una parte in cui, per esempio, che può sembrare strano per noi, parla della differenza tra l'essere e l'apparire, cioè l'importante è salvare le apparenze, quindi per esempio salvare la facciata di madre e di famiglia, salvare il matrimonio, ma in realtà dall'altra invece magari seguire delle abitudini molto libere in materia sessuale. E rispetto a questo emerge ancora, perché mi pare curioso da osservare, quella che è la tesi di Giuliano dei Medici, tra gli interlocutori, che elogia la figura di una donna che è aggraziata, elegante, casta e virtuosa. Quindi sulla donna ci sono punti di vista differenti, ma quello di Giuliano dei Medici diciamo che restituisce dignità alla figura femminile. Il quarto libro è quello più importante di sicuro, perché nel quarto libro si parla dei rapporti tra il cortigiano e il suo signore. E allora qui spiego brevemente con puntualità, perché è una questione molto importante. Siamo nell'epoca dell'umanesimo cortigiano in cui ormai l'intellettuale ha un ruolo subalterno, cioè non è protagonista, ma ha un ruolo passivo. L'intellettuale o si occupa dell'intrattenimento, scrivendo i poemi cavallereschi, oppure svolge funzioni di burocrate, di cancelleria, di segretario. Capite che non ha un ruolo propositivo. Ci tengo a precisare come Baldassare Castiglione nel suo cortigiano rovesci questo cliché. Cioè il cortigiano per Castiglione ha un ruolo attivo e non passivo, nel senso che affianca il principe, deve consigliarlo, indirizzarlo, non deve adularlo, cioè non deve comportarsi in modo tale da assecondarlo soltanto per il suo tornaconto personale. Bisogna che lo indirizzi verso le virtù, cioè che gli faccia vedere come sia importante perseguire la virtù, la giustizia, la liberalità, tutti i valori del mondo cortese. E insiste molto su questo fatto, su questa impostazione, per cui in fondo l'uomo di cultura e l'uomo politico sono su un rapporto di equilibrio. Non è che l'uomo di cultura rispetto al politico si ponga in una condizione di inferiorità. Allora spero sia chiaro. Il cortigiano è un gentiluomo al seguito di un principe, di cui è consigliere e collaboratore strettissimo, e deve essere sincero, deve essere pronto di ingegno, saggio, deve essere una persona di cultura e deve essere in grado, e arriviamo al testo in esame, di dimostrarsi disinvolto, sciolto nei movimenti, ma anche nella parola, mostrandosi equilibrato. Ecco, è importante che il cortigiano appaia naturale nel suo modo di stare a corte. Non deve in alcun modo trapelare che il suo comportamento è costruito, intendiamoci. È costruito perché avrà seguito anche una sua etichetta, ma deve essere equilibrato in modo tale che sembri agli occhi degli altri che si muova con estrema naturalezza. Il dialogo è ambientato nel 1506, vent'anni separano, questo è anche interessante da dire, l'uscita dell'opera, l'edizione del 28, dalla data della sua ambientazione. L'Italia ormai è in balia delle potenze straniere, dopo il sacco di Roma del 1527, il prestigio dei principi italiani si è notevolmente ridotto, l'unità della Chiesa ormai è compromessa dalla riforma luterana, nel 27 c'è il sacco di Roma. Ancora, tutti questi aspetti concorrono a dire come quanto Castiglione racconta nella sua opera appartenga al passato e quindi è evidente lo sforzo di idealizzazione. I protagonisti sono morti, quindi significa che non ci sono più, ma non esiste più quella civiltà che gli intende ricostruire e additare nelle corti europee come un modello di riferimento. Perché modello di riferimento? Perché a noi, ed è l'ultima cosa, consegna quella che è la descrizione della corte del rinascimento, che coincide con un ambiente in cui tutto è magnificente, in cui il duca è un mecenate, ma è un duca che è anche un valido condottiero militare, la corte che caratteri altri ha, è un ambiente di gioia e di serenità, la duchessa è al centro, la duchessa, questa interessante, è esaltata quasi come una maestra di tutti i cortigiani, cioè la figura femminile è un punto di riferimento, è una maestra perché osserva il decoro, perché lei ha a garantire che la conversazione sia aggraziata, arguta, ed è un punto di riferimento per quanto riguarda il comportamento, a corte bisogna essere educati.